Dopo meno di due giorni abbiamo un'altra attività parossistica del lavoraggio. Noi stiamo andando a vedere, ci spostiamo verso l'ovest per fare un sopralluogo e osservare meglio il fenomeno. Questa è la mia prima volta così vicino all'Etna e ora ora sono molto preoccupato da molti emozioni perché ho vivuto in Sicilia per 5 anni e non ho mai visto questo vulcano così vicino. Ho visto più di 100 eruptions in mia vita, è sempre incredibile vedere un'incredibile show come questo. Grazie a tutti.